questo invece si chiama a green desert anche questa tre anni quattro anni questa qui è buon antonio femmina velocissima è buon antonio femmina perché oltre a essere sembrava abbastanza veloce e andava dritto quelle faceva buon antonio all'inizio pari pari e si che poi anche lui vicino che buon antonio dopo l'altro dritto non c'è andava no? si a castello del piano girava meno sotto la vera perché è successo quello però dopo se l'ha adattato è bene infatti io dal principio lei ha il discorso di quell'altra ora lei per piazza ha una struttura che è più lineare ha più lo sangue si però ecco però anche di indole vedi anche lei figlia sun of desert per dire tutti un po tranquilli come zar e niente questa vista è presa come tipo buon antonio per scommessa si è per vedere quello che anche buon antonio è stata una scommessa vita no siamo i primi a credere nella clodian provincia si è per il mar rosso a narduzzi come mosè ma no poi dobbiamo dire che questo lo facciamo dopo facciamo un'intervista bene partiamo la valla vediamo la valla poi facciamo due parole e chi le bruciamo stava trannina vediamo se vince questa scommessa gamba ok ma è sicuro che stava trattando la valla devo fare la voce non? sì